I cavalieri per la tavola rotonda Come mai non siamo in otto? E che manca l'ancillotto? Può, 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 può fare Tu Re Artù non grontolare Tu Sir Flat, vallo a cercare Pardon Tu Sir Quando arriva l'ancillotto? Tu Sir Pardon Quando arriva l'ancillotto? Pardon Tu Sir Quando arriva l'ancillotto? Arriva l'ancillotto, arriva l'ancillotto Non succeda un qualsillotto E tutto a posto avanti E il morale della favola? A tavola! E in tavola Gran pavesi Perché sono buoni, dorati Fragranti come il buon pane Ma più leggeri del pane E senza mollica Perché con gran pavesi a tavola Si mangia meglio Ci si sente più leggeri Croccanti, appetitosi Sempre freschi Convenienti In tavola Gran pavesi Gran pavesi Gran pavesi I crackers da tavola Grazie a tutti Per aver guardato il pane Grazie a tutti.